Si ritroverebbero ancora una volta in attesa delle proprie retribuzioni i lavoratori del centro di Piannellago, una situazione che si era presentata nei mesi passati e che era stata però risolta e adesso torna a preoccupare i sindacati, che insieme Cisle Funzione Pubblica Agrigento Caltanissetta Enna, Wiltemp Provinciale, Flaica Cub Regionale e Compsal Snalb Provinciale chiedono un incontro al prefetto di Caltanissetta. Nel documento fanno riferimento anche alla possibilità di attingere ai FIS fondi integrativi salariali e preannunciano che in mancanza di riscontro nei successivi cinque giorni, si legge, non si escludono azioni conseguenziali. Purtroppo anche noi pensavamo di avere risolto il problema ed eravamo più che mai tranquilli. Ad oggi invece due mensilità non sono state pagate, anzi si sta compiendo la terza mensilità e questi colleghi ancora non hanno avuto o pagato lo stipendio. Per questo ci siamo rivolti nuovamente a Sua Eccellenza il prefetto richiedendo un incontro urgente per capire lo stato dell'arte, per capire a che punto siamo. Noi speriamo che anche questa volta sia la prefettura a pagare i colleghi perché sembrerebbe che la ditta abbia dato l'autorizzazione a questo provvedimento. Chiaramente per non averlo fatto l'ufficio ha le sue giustificazioni. Noi vorremmo capire a che punto siamo. È altrettanto vero che siamo pronti a ripetere nuovamente uno sciopero perché non hanno le condizioni, quelle mensilità che hanno ricevute sono servite soltanto a pagare i debiti. Adesso nuovamente alcuni di loro hanno l'energia elettrica tagliata, interrotta, non riescono a prendere la macchina senza l'assicurazione quindi devono scendere a pian dell'acqua a piedi. È veramente nuovamente una situazione tragica. Sono circa 25 famiglie perché è chiaro che non prendendo lo stipendio loro soffrono sia loro che le loro famiglie. Eppure assicurano il servizio. Noi non ci siamo mai manco resi conto dei migranti che sono in città perché il loro ruolo lo svolgono sia all'interno del centro che all'esterno quando li incontrano. Massima attenzione nei confronti della questione da parte della prefettura ci fanno sapere, si stanno valutando infatti le possibili opzioni per risolvere la problematica in tempi brevi e far sì che i lavoratori ricevano le retribuzioni. Anche la società che gestisce il servizio è stata contattata dalla nostra redazione telefonicamente e rimaniamo a disposizione per un'eventuale replica.